Bentornati ragazzi, tanti rumors, oggi faccio lo youtuber vero, ovvero parliamo di non si sa che cosa, ovvero c'è questo nuovo oggettino presentato da Bambulab che è uscito ieri, esattamente, non si sa che cosa sia e penso di aver trovato una risposta. Precisiamo subito, ok ho fatto la recessione delle Bambulab, ho la P1P, ho l'X1C eccetera eccetera, però per questa cosa qui io non ho nessun tipo di informazione, quindi tutto quello che dirò è su quello che ho notato leggendo e soprattutto avendo trovato una cosa che ancora qualcuno non ha postato al momento, magari adesso che ho pubblicato il video qualcuno l'avrà postata, ma in realtà al momento non ho ancora visto nessuno averla pubblicata. Allora, quindi come dicevo io non so nulla, non ho nessun contratto, non ho nulla, non ho nessun tipo di informazione tecnica né nulla, quindi prendetela con le pinzette e il giorno 20 ovviamente vedremo qualche info in più. Di cosa stiamo parlando? Su Facebook è comparsa questa roba qui ieri su Facebook di Bambulab ed è ovviamente rimbalzata un po' in giro dappertutto, ricordate Bambulab al momento sta facendo parlare di sé in maniera abnorme, nel bene o nel male, perché vi ricordo nel male giusto a metà agosto c'è stato un piccolissimissimo problema con il cloud e le stampanti hanno preso vita magicamente, quindi chi ce l'aveva in stand by o stava stampando si è fermata, ha iniziato a stampare cose random schiantando la stampante, vabbè ma sono cose che ci può stare? No, non ci può stare tanto, però vabbè dai, l'hanno presa bene sei denti ma hanno reagito a mio parere molto molto bene, molto bene, da signori hanno rimborsato il materiale a chi l'aveva perso e hanno, come si chiama, sostituito tutte quante le parti danneggiate gratuitamente, cose da, non dico niente, non dico niente. Quindi, a parte questo problema che se ne è comunque parlato di Bambulab, adesso sono tornati alla carica di brutto con questa nuova qua, immagine criptica, che non, cosa vuol dire? Colorful 3D printing for everyone, vuol dire tutto, vuol dire niente, si sa che è qualcosa che lavora con i colori, in molti hanno speculato dicendo è uno di quei color mixer che fanno CMYK e fa le sfumature e cose del genere, dubito, dubito, ma potrebbe essere, potrebbe essere una nuova stampante? Certo, potrebbe essere una nuova stampante, perché no? Ormai stanno presentando tutte le robe nuove, loro sono a cannone adesso, hanno appena presentato la P1P, la P1S, che in realtà era la vecchia X1, non carbon, ricarrozzata, nera, vabbè, insomma, smissiotti, ma è sempre la stessa macchina. Che ne sai, buttano fuori una più grande? Oppure potrebbe essere che cosa? Potrebbe essere un accessorio da attaccare, tipo Mosaic Palette o l'MMU2, MMU3 di Prusa, su altre stampanti che magari vorrebbero utilizzare la MS? Andiamo a pregradi, faccio vedere un pochettino. Allora, tra tutti i commenti, sì, se sente di tutto di più Reddit, gruppi Facebook ufficiali e non ufficiali, vabbè, la prima cosa che hanno consigliato ovviamente è quella di prendere l'immagine, come si era fatto con la P1P, e di andare a cambiare l'esposizione, i livelli, per vedere qualche dettaglio in più. Se andiamo a cambiare un pochettino, qui compare qualcosina che era un po' meno visibile prima. Ovviamente, innanzitutto, il logo qui sotto, si vede questa cosina qui, che non mi è ben chiara, non ho ben individuato che cosa sia ancora questa cosina qui, che si vede qui, tipo una levetta, non lo so, ok? Boh, è da vedere. E questa qui è comparsa, sembra molto la levetta di taglio, il cutter che c'è anche nell'X1C e nella P1P. L'altra cosa nuova, che adesso vedremo, è questo simbolo qui. È una ventola, non è una ventola, un LED, non lo so, non lo so. Quindi, questo potrebbe farci pensare a una testa di stampa con quattro ingressi, che magari arrivano da dove, non lo so, potrebbero arrivare dall'AMS, però l'AMS esce con un filo unico. Potrebbe arrivare dai quattro AMS che potrebbe gestire, non lo so, perché di solito c'è l'Hub che ha tutti e quattro, esce un filo unico. Non lo so, quindi ditemi voi, ovviamente, commenti liberissimi, parliamo assieme, ditemi anche la vostra, parliamone, vediamo che cosa può essere. Però, però, in realtà, indagando un pochettino, ho fatto uno step ulteriore, che potrebbe aiutarci, non è risolutivo, perché non è detto che sia quello, ma aprendo patent.google.com, sono andato su il produttore delle Bambulab e ho trovato quest'ultimo brevetto presentato, che loro parlano di un select material device, un selettore di materiale. Adesso vi spiego, è bella lunga il paper qua da leggere, ve lo riassumo molto brevemente, perché dopo ne parleremo nei commenti. L'unica cosa che vi posso dire, comunque vi faccio vedere il trafiletto, qui parlano principalmente, che è una cosa interessante da capire, che parlano di una stampante, perché qui parlano di un ecosistema stampante, eccetera, eccetera, con at least almeno two tool heads. Tool heads vuol dire testine di stampa, testine di stampa vuol dire tutto e nulla. Può essere uno tend, perché qui ricordiamoci che vediamo una cosa che sta, secondo me, in mezzo. In mezzo vuol dire che prima non vediamo da dove arrivano il filamento, come viene caricato, perché qui parlano anche di un feeder, di un feeding mechanism for feeding respective stock lines. Cioè vuol dire queste quattro input, che tra l'altro, loro dicono da uno a più input, quindi non parlano di esattamente quattro, è che fatalità, corrispondono con i quattro ingressi che fanno vedere qui, ma non sappiamo ancora se è rendering oppure è una cosa reale. Vabbè, comunque sia, qui parlano di at least, è una cosa molto interessante, two tool heads, quindi che sia una nuova stampante effettivamente con uno, anzi, con due o più testine di stampa indipendenti, nel senso che, come funziona questo dispositivo qui? Molto molto semplice. C'è un ingresso, che sembra molto quello dell'AMS, che convoglia quattro o più filamenti all'interno di uno, quindi vuol dire che entrano uno alla volta, ma poi passano all'interno di questo canale. Poi in mezzo, che cosa c'è? Qui in mezzo il numero 140, qui c'è un motorino, e scusate, faccio vedere questa indicazione qui, eccolo qua, 140, 142, 143, c'è tutto scritto nel dettaglio, è un motorino con una vite che spinge a destra, a sinistra, o avanti, indietro, dipende dai punti di riferimento, questo imbuto qui, e questo imbuto è lui, lo vedete qui in una sezione un po' distaccata, ed è un imbuto che va a convogliare, eccolo qui, lo vedete meglio, spinto avanti e indietro, e va a convogliare sulla parte terminale, vedete, le due uscite. Loro non parlano di due uscite, almeno due uscite, quindi vuol dire che potrebbero esserci neanche quattro che lui sposta avanti e indietro a seconda del filamento che viene selezionato. Ora, vabbè, ve lo potete leggere, è tutto scritto bene, è molto semplice, le stesse robe sono ripetute 752 volte, sono più ridondanti di me per certe cose, però è un brevetto anche. A cosa può servire? Non ho la più palida idea, ci ho pensato tutta la mattinata e mi sono detto, ok, cioè la roba entra qui, entrano quattro fili, ok, può essere utile per qual motivo? Ad esempio, per ridurre il, cioè praticamente il filo si fermerà qui, non verrà più riavvolto nella bobina, in modo tale che non ci sia più tutto il tempo che deve essere riavvolto fino indietro, potrebbe essere una soluzione. Il fatto però, secondo me, quello più importante è quello di lavorare con più tool head, testini di stampa, anche se qui, ripeto, sta parlando di, magari non è niente, magari è una roba che verrà fuori più avanti, che ne so, magari non è legata a questo dispositivo. Però il fatto di avere più testine di stampa ci va a animare uno dei difetti grossi della stampa multicolore, Bambu Lab, MMU2, eccetera, eccetera, che lavorano con il mono tool head, con il mono hot end, ovvero lo spreco grandissimo di materiale. Quindi, se lui qua riesce ad avere 4 N1000 AMS collegati, che buttano a loro volta, provate a immaginare, 4 ingressi con 4 AMS, vuol dire 16 colori anche qui, ma gestiti indipendentemente. Vuol dire che ogni filo poi dopo verrà convogliato su, che ne so, 4 hot end. Perché dico 4 hot end? Ma questa è una cosa mia che in realtà nei commenti si è letta. Questi 4 led qui, questo simbolo con 4 pallini, può voler dire qualcosa relativamente a delle testine che si possono ruotare, possono... non lo so, può voler dire questo 4? Magari, io lo spero, nel senso che aiuterebbe sicuramente il discorso relativo agli sprechi, perché tutti quanti ne hanno detto, lo sappiamo, cioè per fare una stampa multicolore, butti via una catarbia di materiale. La Prusa XL nuova che ho visto, multi-tool, è una figata clamorosa. Tempi di stampa ridotti all'osso, cioè quello che ci metti magari 20 ore con una Bambu Lab, ce ne metti 5, 6, ipotizzo, con una Prusa XL. Perché? Perché lavora con testine indipendenti e grazie al cavolo non deve spurgare, non deve ritrarre, non deve fare niente. Quindi, da un lato l'AMS è una figata, l'ho sempre detto, però dall'altro lato va il problema della gestione degli spurghi. Quindi, se oggettivamente riuscissero a fare, secondo me a questo punto si potrebbe parlare anche di nuova stampante, che ne sapete voi, non lo so. Difficile che sia, perché questo Everyone potrebbe essere effettivamente... Cosa vuol dire? Per tutti, perché è più facile ancora da utilizzare? Potrebbe essere. Ma per tutti potrebbe essere per tutte le stampanti? Dubito abbiano fatto un dispositivo così complesso, magari, da attaccare ad altre stampanti. Perché Bambu Lab è molto... Cioè, lo vedo difficile attaccare un sistema Bambu Lab su qualcosa di open source. Non è nello stile Bambu Lab. Quindi, secondo me, si rimarrà nel loro ecosistema. Ma probabilmente verrà smentito. Fatemelo sapere nei commenti. Ditemi che cavolo ne hai pensato. Potrebbe essere una stampante nuova. Dubito ancora, possa essere un qualcosa che sostituisca la testina di stampa, magari di una P1P, di una P1S o di una X1C. Perché non lo vedo nell'ottica Bambu Lab farti smontare in mezza macchina per sostituire questo componente solamente. Non lo so. È pensiero mio. Pensiero mio. Però, datevi a dare un'occhiata al brevetto, al patent e andatevi a vedere un attimino come è scritto. È molto semplice. Sarà curioso vedere come verrà implementato. Il 20 di settembre è il D-Day. Vedete, settembre 20. Vedremo cosa verrà fuori. Intanto, io spero di aver dato un po' di pepe con questo mio video che è inconsueto. Da me vedere un video del genere. Di solito sparo super mappazioni. Con questo giro è un video molto frivolo, molto tranquillo e vi prego, vi invito a un minimo di... Iscrivete nei commenti. Voglio sapere cosa ne pensate. Per tutto il resto, vi ringrazio per la visione. Ringrazio tutti i Patrons. Grazie, grazie, grazie a tutti i Patrons. E ci vediamo alla prossima. Attivate le campanelline, iscrivetevi, fate tutte quelle robe che vi dicono i YouTuber di solito. E alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.